Il rugby è uno degli sport forse più belli che ci sono al mondo, soprattutto uno sport estremamente corretto e uno sport duro, duro come il mercato, ma è improntato sulla correttezza, sul fair play e questo è un po' il messaggio che noi vogliamo dare con questa immagine del nostro stand dedicato al mondo del rugby. Due squadre si sono unite, Decra Italia e MC Group e sono due squadre molto forti, hanno in comune il valore della correttezza nei confronti del mercato dei clienti, una mission molto alta e con valori molto alti come si possono trovare appunto nel gioco del rugby. Riteniamo che aver scelto questa immagine sia il modo migliore per rappresentare quello che oggi noi siamo. I ruoli dei giocatori si stanno definendo ogni giorno che passa e il nostro obiettivo è di non essere più delle semplici squadre che giocano in ambito locale, in campionati regionali o che da qualche anno sono assurde al campionato di eccellenza. Noi vogliamo poter giocare, le sei nazioni vogliamo poter giocare a livello europeo e a livello mondiale, il fatto che Decra stia diventando un global player, un global service provider ogni giorno di più, dimostra che noi siamo una parte importante, un team importante all'interno di una squadra internazionale. Grazie a tutti! Inauguriamo oggi 11 maggio 2011 i Dealer Day qui a Verona, siamo nella piazza più prestigiosa di Verona e l'occasione è per presentare il gruppo Decra composto da 11 società per un totale di 285 persone, un fatturato di 24 milioni di Euro di consolidato nel 2010. Un piccolo accenno sui risultati del gruppo nel mondo, siamo in questo momento al primo posto nel mondo a livello dei servizi automotive con 24 mila dipendenti e un fatturato globale di 1,8 miliardi di Euro. per ringraziare anche tutti i miei colleghi li inviterei un attimo qui con me, anche i disattenti vedo Bombonetti e company di avvicinarsi. Bombonetti? Bombonetti venga per favore, Francesco chiama tutti che volevo far vedere il team Decra presente di MC, Gianluca chiama tutti i tuoi colleghi, Lagrange lei cosa fa lì? Prego anche lei si è vicini, poi abbiamo Testa, Sarotto, abbiamo i nostri colleghi dalla Germania, prego, venite, Annalisa, Thomas Gallucci, Sirimarco, Carbonoli, veloce, benissimo, così poi diamo il via, ecco questo è il team Decra che finalmente vedete qui riunito ed è la forza che avete visto anche oggi rappresentata e saranno i vostri interlocutori da oggi in avanti. Per cui buona serata, buon divertimento. Grazie, a voi.